Prosegue la marcina restabile della Virtus Irene Ragusa. Nel big match della sesta giornata del campionato di Serie A 1 di basket femminile, la formazione siciliana supera in casa l'Umana Reier Venezia. Al Palaminardi, le ragazze di Cocci e Lecubido trionfano con lo score di 83-60, un successo che permette a Ragusa di restare a punteggio pieno in vetta alla classifica. Gara sensazionale, quella disputata da Leiblet, trascinate da un incontenibile Derika Hamby, top scorer dell'incontro con 34 punti realizzati. Le ospiti restano aggrappate al punteggio sino a metà terzo periodo, quando è Martina Kacelic a siglare al lungo decisivo con uno straordinario tiro da 3 punti. Un canestro fondamentale ai fini di risultato quanto sfortunato per la 23enne giocatrice ex Reier, poiché cade male sulla caviglia procurandosi un brutto infortunio che la costringe ad abbandonare anzitempo il parquet di gioco. Pienamente soddisfatto della prestazione delle sue giocatrici, Cocci e Lecubido non nasconde le proprie ambizioni di successo nel post partita. Forse la prima volta che Ragusa nella sua storia nel cambiato regolare è prima in classifica da sola, quindi per noi questo deve essere uno stimolo enorme per continuare, non possiamo commettere sciocchezze nelle partite successive. Adesso c'è la pausa che fortunatamente fa bene un po' a tutti, anche se noi eravamo in un trend positivo, ma credo che sia salutare anche per noi questa pausa. Speriamo un attimo di recuperare le energie e affrontare le partite successive con la voglia e con la fame di mantenere la vetta. Domenica 24 novembre la Virtus Irene Ragusa tornerà in campo per la sfida casalinga contro la palla canestro Vigarano.